Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest in direzione Livorno e code tra San Mignato ed Empoli-Ovest in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Sulla strada regionale 206 è sempre chiuso il ponte sulla Fossa Chiara in località Arnaccio per lavori della provincia di Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!